Ma dico soprattutto che fra l'altro una notizia che io vorrei anche che vista l'autorevolezza di questa commissione si possa verificare il prefetto mi dice che c'è un arrivo di 100 immigrati dal Friuli Venezia Giulia e vorrei capire perché arrivano dal Friuli Venezia Giulia se magari poi ci spiegate perché vorrei anche ricordare che noi siamo assolutamente rispettosi dell'attività della prefettura anche se non la condividiamo assolutamente non perché sia frutto di disorganizzazione perché condividiamo il fatto che non si debbano accettare i migranti in Veneto però è altrettanto vero che vorremmo capire questi 100 poi se qualcuna informazione ce le può dare